Che numeri? A poche giornate dalla fine del campionato, la difesa della Juve Stabia, che resta fortissima tra le mura amiche, subisce il terzo gol della stagione. Simeri, ex di turno, castiga la retroguardia delle Vespe, ma soprattutto la compagione di casa è ancora imbattuta allo Stadio Menti, onore a merito al team di Paiuca. Inoltre, la stessa capolista, insieme al Benevento, nelle ultime 5 gare ha strappato 4 vittorie, ma in totale 13 punti per entrambe. Numeri che hanno consentito ai Giallo Blè di dominare il campionato e alle streghe di stagionare al secondo posto della graduatoria. L'Avellino perde il primato nel migliore attacco, a discapito del Picerno, la scuola di Longo. Dopo la cinquina al Monterosi, torna la regina del reparto offensivo. 47 gol dei Lucani, uno in più dei Lupi di Mister Pazienza. Avellino che però regge nel suo primato in trasferta. Nonostante i 4 X di fila lontano dal partito Lombardi, i Biancoverdi hanno conquistato 31 punti lontano dallo Stadio Amico, due in più della Juve Stabbia, che è sempre presente in ogni dove. Con l'esonero di Tisci, anche l'audace Cerignola cambia guida tecnica. Raffaele prende il posto dell'ex fantasista dei Lupi. Con la panchina di Giallo Blè, in totale sono 14 le compagini che almeno una volta hanno sostituito il capo allenatore. E su 20 squadre è un numero sconfortante.